oggi parliamo un po bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video sono con le spalle un po coperte perché ragazzi sto cambiando un po tutto e quindi sono tante cose sono un po distrutte e quindi sono in versione nuara questa sera volevo un po parlarvi di quello che è la situazione attuale che si è venuta a creare nel mondo delle cripto valute soprattutto dopo la questione del crash di luna ora c'è anche il nuovo airdrop quindi il progetto luna riparte con il 2.0 in vari punti interrogativi pro e contro e quant'altro parliamo oggi di quello che sono secondo me o potrebbero essere secondo me i driver dei prossimi mesi ragazzi sul mercato delle cripto e soprattutto anche che cosa è successo con questo scoppio ragazzi un po della bolla un po la sensazione che sia scoppiata veramente la bolla cripto non con i massimi raggiunti a novembre ma proprio il castello di sabbia tra le altre cose a limite non è proprio un castello di sabbia comunque un po la sensazione di castello di sabbia in scoppiato proprio nelle scorse settimane quindi dove si ci è resi conto in maniera importante impattante delle rischiosità dei mercati di quello che è l'atteggiamento corretto quando si fanno investimenti un po il mercato ci ha riportato con i piedi per terra allora facciamo una bella cosa oggi ragazzi in maniera estremamente amichevole parliamo di un tot di questione allora ci sono diversi punti di riflessione che questa fase di bear market bear market cattivello direi io ragazzi perché non è da subito che si è andato a comprendere soprattutto non ha intaccato l'entusiasmo degli investitori cripto se non fino alla scorsa settimana proprio quando avviene questo ci sono dei punti di snodo rilevanti secondo me ragazzi quindi ne parliamo e poi c'è anche il discorso che in effetti da un punto di vista di macro non è una crisi isolata del mondo cripto ragazzi questa è una crisi finanziaria che si sta andando ad ampliare a tutti quelli che sono i diversi settori anche del mercato classico le cripto sono un po sballottate come una pallina all'interno di un flipper proprio in questo determinato contesto ragazzi e proprio in questo contesto iniziano poi uscire una serie anche di news una serie di situazioni abbastanza spiacevoli o comunque non di livello ma al di là di questo ragazzi proprio il settore criptovalute aveva secondo me bisogno di queste di questa fase un po in maniera cattiva il mercato aggiusta le cose così lo fa un po anche la natura e quando c'è tanta fuffa quando c'è tanto discorso e poca sostanza nelle cose il mercato bastona il problema è quanto bastona allora ragazzi i prossimi sei mesi avremo davanti delle cose che sono rilevanti e dei fenomeni che secondo me cambieranno un po le sorti del settore delle criptovalute primo fra tutti la questione del tasso di inflazione mondiale tasso di inflazione ragazzi sarà il driver principale di tutta la politica della federal reserve prima ma ancora non dimentichiamo nei prossimi mesi quando la fed avrà finito probabilmente inizierà la bce perché la bce non lo sta facendo adesso perché ovviamente la fed gli avrà detto ora tocca a me tu dopo e perché ragazzi questo perché se anche la bce iniziasse a togliere liquidità dal mercato come sta facendo la fede della reserve in maniera imponente ci sarebbe un crash non controllato dei mercati finanziari e quindi un panic selling vero con un crash importantissimo allora siccome i mercati classici sono regolamentati e sono anche tra virgolette manipolati dalle banche centrali si sono secondo me messi d'accordo questa è una mia opinione ragazzi ma si sono messi d'accordo a snellire i passaggi però dopo la fed anche la bce dovrà correre ai ripari contro l'inflazione a meno che non si ripristina un po il tutto e ritorniamo in uno status quo dove i tassi di interesse saranno accettabili il punto di arrivo dei tassi di interesse quando i tassi di interesse quando quindi il drenaggio della liquidità nei mercati finanziari nell'economia sarà finito in pratica allora a quel punto inizieremo a respirare non appena sarà finito qualche mese prima perché i mercati finanziari anticipano di sei mesi almeno tutto quello che avviene nel mondo reale in pratica quello che abbiamo visto da gennaio ad oggi ragazzi nel mondo reale noi tutti le persone normali se ne accorgeranno da adesso in poi quindi la recessione che probabilmente starà arrivando il problema legato all'inflazione finora nella vita quotidiana non è stata percepita quindi ci andremo ad avvicinare probabilmente a questa cosa nei prossimi mesi e sarà un risveglio amaro soprattutto per per tante situazioni io penso che la tasso di inflazione questa volta non sarà spregiudicatamente elevato e che la banca centrale riusciranno a controllarlo ovviamente in questo caso è un'opinione personale perché non ci sono dati al momento non ce l'hanno neanche le banche i dati proprio per questo stanno spingendo sul freno il più possibile proprio per evitare che si vada a surriscaldare tantissimo il sistema inflazionistico e poi fino al punto cosiddetto di non ritorno di incapacità di controllo quindi primo driver fondamentale nei prossimi mesi il tasso di inflazione e il prezzo delle materie prime che fondamentalmente è collegato grano petrolio ragazzi e poi la soia eccetera tutte quelle che sono le materie prime principali se già li vediamo che iniziano a ridursi di prezzo allora questo è un fattore positivo non abbiamo bisogno di sentire la pubblicazione del tasso di inflazione guardiamo i grafici delle materie prime secondo driver principale del mercato delle criptovalute la questione merge di ethereum perché ragazzi la questione emerge di ethereum perché i grafici già da un tot di tempo ci stanno mettendo in evidenza la questione legata al fatto che il pair ethereum contro bitcoin è arrivato ad un punto di massimo importante del ciclo di quattro anni questo punto di massimo va a coincidere perfettamente con una delle cose più importanti delle innovazioni della chiamiamolo così dei upgrade principali di della regina delle cripto ethereum cioè il merge il passaggio al proof of stake una cosa del genere dove porta dove non porta è comunque una novità importantissima che mette ethereum su tutto un altro piano rispetto al passato questo significa anche che tutto quello che abbiamo visto anche sui grafici stessi ragazzi tutti quelli che sono i dati di ethereum da agosto che dovrebbe essere la data del merge forse se non lo rimandano in poi non saranno più realistici perché cambia la struttura stessa della della cripto quindi non è più uguale non si può paragonare ci sarà sempre il principio riflessivo per cui un magari supporto manterrà e bla 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 però in sostanza andremo a riscrivere una nuova storia con ethereum ragazzi e tutto quello che è avvenuto finora sarà un lontano passato man mano e soprattutto sarà da guardare con occhi molto critici perché tutta la struttura fondamentale di ethereum cambierà ora c'è un grafico che già la scorsa settimana vi ho portato che secondo me è molto rilevante che è quello di ethereum bitcoin ragazzi che su un punto chiave e la cui analisi ciclica ci porta anche a una riflessione importante i prossimi mesi sembrerebbe che ethereum perda forza relativa su bitcoin la vera domanda è perché e soprattutto il prossimo ciclo di ethereum contro ptc dovrebbe avere le gambe corte da un punto di vista rialzista questo potrebbe indicarci che questo merge non verrà preso bene dai mercati se dovesse effettivamente avvenire facciamo una cosa vi porto proprio con me su questo grafico per farvelo vedere allora intanto è il grafico sul time frame settimanale ethereum contro bitcoin ragazzi quindi in questo caso andiamo anche a strutturare le medie corrette per il grafico settimanale sono queste qui ethereum al momento le ha breccate ha breccato in particolare modo anche la media a 52 oltre la media 26 sarebbe la media del ciclo annuale e del semestrale contro bitcoin non lo faceva da un sacco di tempo ragazzi cioè non lo faceva in pratica così da questa zona qui in più o meno quindi l'ultima livello 2018 verso maggio 2018 perché tutte le altre volte guardate questa sì è vero che è un break leggerino però è un break dove ha riportato comunque il settimana successiva ha subito il verde poi soprattutto non è stato molto lontano dal livello della media e coincideva con la chiusura del ciclo annuale 480 giorni circa classico ciclo annuale ragazzi quindi al momento invece questo break delle medie mobili è però che siamo in una barra di congestione quindi ha un senso relativo cioè perché delle medie mobili in questo caso probabilmente indica congestione della regina delle cripto non in versione di trend proprio per questo ho inserito anche il super trend per darvi una screening estremamente più visibile proprio della del livello sotto il quale probabilmente il trend di medio lungo periodo e ti un bitcoin cioè quello che è iniziato dal settembre 2019 verrà invertito poi da un punto di vista matematico quindi proprio statistico scusate la inversione avverrà con il breakout di questo livello 0,06 quindi se dovesse effettivamente breccare poi questo 0,06 avrà invertito il trend in maniera statistico matematica quindi in maniera ufficiale diciamo così cosa succede e perché una cripto come tiriamo sta invertendo il trend allora questo è un driver importante per i prossimi mesi ragazzi perché perché già abbiamo visto come tutto il settore delle criptovalute sta sopprendo pesantemente il fallimento di una delle criptovalute ritenute top è un fallimento duplice quello di luna a terra ragazzi perché non è solo un fallimento dovuto alla alla cripto in sé e a tutto quello che ne consegue anche ieri stavo guardando per esempio dei volt di altre edefai e dimezzati perché avevano un 30 per cento e in ust e ust che peg a proposito non lo prenderà credo mai più perché semplicemente non barnano quindi come vi avevo già detto più volte ragazzi se non barnano la cripto col cavolo che riprende perché addirittura si trasferiscono sul nuovo progetto quindi è praticamente diciamo andato in quel modo il concetto proprio terra luna è un fallimento anche che impatta sulla fiducia degli investitori cripto ed è proprio questo che è cambiato nell'ultima settimana cioè nell'ultima settimana quello che si è visto in maniera molto chiara è che tanti investitori cripto si sono disinnamorati questo per me ragazzi è il primo scalino che indica che stiamo andando alla conclusione del market ve lo dico in maniera molto chiara netta e sincera conclusione magari avverrà fra sei mesi ok non c'è dubbio però il concetto è che quando intaccano la fiducia di investitori retail soprattutto perché non hanno le basi la formazione le fondamenta importanti i muscoli per reggere questo tipo di questioni allora stiamo andando alla fine di quel percorso il primo tassello è stato inserito hanno premuto on sul primo tassello hanno intaccato la fiducia nel mondo cripto a tutti gli investitori sfido chiunque a dire il contrario ragazzi perché domani andate di nuovo a provare a mettere la vostra liquidità su una stable coin algoritmica questo è la questione poi si sa la memoria degli investitori è una memoria corta altrimenti molti di voi si sarebbero ricordati quello che è successo nel 2018 e però per un po di tempo sarà intaccata la fiducia probabilmente nuovi progetti avranno difficoltà alcuni progetti da dove fa hanno raggiunto capitalizzazione che passatemi il termini sono veramente ridicole per questo tipo di settore ma forse anche più veritiere di quelle che abbiamo visto fino a sei mesi fa quindi su questo stiamo riscrivendo la storia questi momenti sono i più importanti di tutti perché fra n anni ragazzi tutti i fondamentali di bitcoin quello che abbiamo visto a miami il lightning network il fatto che andrà come valuta di scambio in alcuni paesi de facto o addirittura legal eccetera tutte queste cose non sono finite ora c'è una fanfara perché ragazzi perché i prezzi e gli investimenti dei mercati degli asset finanziari non dipendono dai fondamentali nel breve periodo ma dipendono dai fondamentali nel lunghissimo periodo quindi da qui a dieci anni il problema è che quando io vi dico spesso e volentieri l'abuso che si fa del termine lunghissimo periodo è proprio l'impreparazione che si ha poi di fronte a una crisi del genere quando si parla di lungo lunghissimo periodo non cioè si va ad omettere il concetto che durante questo periodo probabilmente assisteremo a fallimenti come quello del protocollo luna e anche altri probabilmente ragazzi questo è il discorso si omette questa realtà facendo vedere chissà che cosa che poi magari arriverà ma arriverà nel modo in cui ci siamo più o meno liberati diciamo a metà della pandemia ragazzi in maniera inconsapevole perché nel mondo le cose non cambiano da 0 a 100 ma fanno piccoli passi piccoli passi 0 1 2 3 e questo cambiamento noi abbiamo difficoltà a vederlo come esseri umani a meno che non fate come me quando mi metto a dieta d'estate mi misuro la circonferenza e ho un dato perché l'unico modo per vedere che dimagrisco oltre la bilancia è anche quello allora scherzosamente si ragiona in questo modo però il concetto di fondo è primo driver tasso di inflazione nei prossimi mesi da monitorare così con un botto praticamente tutto il tempo secondo il merge di ethereum è la debolezza della regina delle cripto se effettivamente dovesse avvenire innescherebbe un ritorno del re quindi mi faccio una citazione nuova al signor degli anelli come sempre però ragazzi è proprio questo il discorso solo con un crash controllato di ethereum o una ridotta capitalizzazione di ethereum bitcoin potrà ritornare come dominance a livelli alti non c'è un'altra soluzione ethereum o le stable coin collegato ad ethereum quindi tutti i suoi scelte 20 insomma per spiegare questa cosa va bene ragazzi alcune c'è una guerra sulle stable coin ne parleremo nei prossimi giorni c'è una guerra di quale è la più affidabile anche questo è un segnale del terzo driver dei prossimi mesi cioè la caduta della fiducia degli investitori cripto nel mondo cripto eppure non è cambiato nulla ragazzi semplicemente quello che è cambiato è stato che gli investitori si sono resi conto che un protocollo che può essere anche una top che era faiato dall'inizio dall'inizio era faiato non era una cosa strana ragazzi anche per questo insomma molti che hanno comunque investito in questo protocollo erano consapevoli che fosse estremamente rischioso non degen proprio ma pseudo degen diciamo così perché aveva un bug però siccome ci stava riuscendo a scalare il monte e sembrava riuscire a creare la famosa stable coin algoritmica perché attenzione ragazzi non è finita la guerra hanno perso una battaglia ma ci riproveranno a creare l'algoritmica anche perché non c'è storia senza stable coin algoritmica per questo settore quindi qui facciamo riflessioni che poi andiamo oltre ve ne parlo in un altro video va bene però il concetto è proprio questo è stato diciamo distrutto un progetto che addirittura ora vuole rilanciarsi e magari ci riesce pure non so come fa però magari ci riesce pure ma ha toccato la fiducia degli investitori crypto che erano accecati dalle performance che tutti quanti noi vi abbiamo più volte detto almeno io sul mio canale praticamente sempre che quei rendimenti non sarebbero durati mai e poi mai che fare riferimento al tasso di interesse composto con rendimenti creati come quelli che erano al 20% su anchor eccetera sarebbe stato è un gioco che si può fare perché tutti noi lo facciamo ma stiamo giocando perché l'interesse composto è valido per 20 anni e quella roba stava in piedi per qualche mese quindi non aveva neanche senso andare a fare quei calcoletti abbiamo parlato veramente tanto ragazzi eppure eppure la fiducia intaccata ora quando siamo con la fiducia intaccata cambiano tante cose perché si diventa guardinghi si diventa attaccati alle cose che noi pensiamo essere safe e si lascia sul piatto spazio ai squali spazio alle balene perché nessuno mette più le mani in pasta laddove non sa che cosa c'è nella pasta ragazzi va bene e ovviamente questo è a vantaggio di chi le informazioni le ha quindi il concetto della sfiducia è il primo tassello che mette un primo pezzo del puzzle a posto per indicare che siamo sulla strada probabilmente di definizione di questa fase di bel market brutta molto brutta ma la più importante almeno che io ho vissuto nel settore delle criptovalute ragazzi quindi secondo me i prossimi mesi saranno molto interessanti dovete avere le spalle forti riducete la volatilità mio consiglio vi do da tre mesi riducete la volatilità del portafoglio riducete l'esposizione delle cripto e solo quelle che hanno trend positivi va bene tra le altre cose vi faccio rivedere anche questo questa slide che questo lista che abbiamo visto ieri nella live dove dimostro che in pratica a 30 giorni su bitcoin pochissime cripto sono in trend positive e se escludiamo tutte le stable coin in pratica TRX ragazzi BNB è monero ma monero un pochino ma monero lo fa sempre questo giochino che è una private coin è un po' particolare quindi ho messo anche il grafico di TRX non pensavo l'avrei mai fatto nella mia vita ma alla fine l'ho messo e contro bitcoin ha una barra di congestione che se invertita stancisce l'inizio di un nuovo trend ragazzi poi magari non dura perché questa è una coin estremamente manipolata io come sempre vi analizzo i dati non faccio solo opinioni quindi quando parlo di opinioni ve le dico insomma le cose sono le mie opinioni in questo caso un dato quindi un break di quel livello inverte il trend su bitcoin poi non dura magari quello perché è manipolato quindi bisogna prenderlo con le pinze eccetera però questa benedetta TRX è l'unica che praticamente sta cercando di fare qualcosa questo la dice lunga anche il fatto che Ethereum Classic abbia iniziato a fare performance contro BTC contro Ethereum proprio per via della questione legata al merge perché probabilmente tutti si sposteranno a minare Ethereum Classic i vecchi miner di Ethereum ma la cosa che un po' mi dispiace è che vedo anche che Ethereum per esempio contro BTC vedete è in questo limbo non è messa male ragazzi e attenzione perché ovviamente non è messa male però ha perso un po' di appeal e soprattutto la sua struttura ciclica allora qui sotto guardate i tre cicli che dovrebbe disegnare con Bitcoin perché questi sono due annuali uniti a ciclo ternario questa struttura è in fase di definizione il break di quest'area darà il via a scatenate l'inferno e questo minimo coincide alla perfezione con l'area del merge cioè a settembre quindi i primi settembre quindi questo è agosto ragazzi quindi tutto quello sciacquone finale durante il merge perché? per come? per quando? poi dovrebbe iniziare a risalire a fare l'ultimo ciclo vedremo quindi io sono fortemente in attesa ho ancora qualche Ethereum ma non vi nascondo che sto anche decidendo di uscire per mettere in pausa anche la regina delle cripto e sono deciso se andare a Bitcoin o stable per evitare la questione stable e poi prendere coscienza allora di questa cosa poi lo faccio come trader quindi no perché comunque la posizione holding di Ethereum è stata fortemente ridotta ai primi di aprile quando sono uscito dalla posizione importante su Bitcoin però per il resto ragazzi questi grafici sono il vero punto e il vero tallone d'Achille quindi monitorateli alla perfezione il settore cripto non è morto il settore cripto è vivo e vegeto tutti i fondamentali di Bitcoin sono identici a prima quello che sta accadendo è collegato al mercato classico non è una cosa sola delle cripto è una cosa del mercato old ragazzi ed è la prima volta che Bitcoin e le cripto vivono una vera recessione e un vero crash finanziario del mercato old a parte la pandemia che comunque è stato un flash crash quindi è la prima volta come reagiranno non lo sa nessuno che cosa potrà accadere non lo sa nessuno allora vediamo i dati costruiamo il futuro primo tassello è la sfiducia degli investitori retail quelli che non hanno formazione i parco buoi quelli che credevano di aver trovato la gallina dalle uova d'oro primo tassello premuto on ragazzi ok open your mind ciao a tutti